la fontana è il nostro punto di ritrovo ogni volta che ci passo davanti penso ai miei amici e a tutti i giri in bici che abbiamo fatto partendo da lì amiamo il nostro territorio perché ci permette di percorrere chilometri immersi nella natura e ci regala scorci stupendi la nostra amicizia è legata dalla bicicletta e facendo fatica assieme ci siamo uniti ancora di più quello che mi fa star bene sono gli amici la mia video